Buonasera, benvenute e benvenuti al Dialoghi di Pandora Festival. Questa sera siamo qui insieme a Riccardo Stagliano, a Juan Carlos De Martin e in collegamento ci dovrebbe raggiungere tra qualche minuto anche Francesca Bria. Il tema del festival di quest'anno è Democrazia in crisi, con un interrogativo su cui si snodano tutti gli appuntamenti del festival. Io sono Piero Ingrosso, sono il direttore del magazine Changemakers, ringrazio Pandora, tutta la redazione, il direttore Giacomo Bottos per l'invito a moderare questo panel che parte dal libro di Riccardo Stagliano, Giga Capitalisti, il tema di questa sera è proprio Giga Capitalisti, Democrazia e Big Tech. Ci sarà alla fine lo spazio per fare delle domande, per interagire con i nostri ospiti, che sono appunto Riccardo Stagliano, giornalista, studioso di nuove tecnologie, e se ne è occupato per anni con diverse pubblicazioni, inviato di Repubblica del venerdì e Juan Carlos De Martin insegna il Politecnico di Torino ed è co-curatore della Biennale di Tecnologia che comincerà tra pochi giorni a Torino, tra le altre cose quindi magari ci darà anche qualche anticipazione su che cosa aspettarsi e poi Francesca Abria che è la Presidente del Fondo Nazionale per l'Innovazione CDP Venture Capital. Riccardo Stagliano, allora il libro è questo qui, lo trovate anche all'entrata, Giga Capitalisti. La prima domanda che le vorrei fare riguarda un tentativo di profilare, fare un identikit di questi Giga Capitalisti, quali sono i tratti che in qualche modo li caratterizzano. Tra l'altro all'interno del libro c'è un passaggio molto interessante dove chi si occupa di innovazione, chi segue la storia del progresso dell'innovazione soprattutto nell'ultimo secolo, ma in particolare negli ultimi 30-40 anni, conosce il valore delle idee. Quindi c'è anche tutta un'epica delle idee che parte poi e poi è stata accentuata col mondo della Silicon Valley, con la costruzione di grandi imprese partite appunto da un'idea geniale, spesso con l'epica riprende quest'idea del garage, tre amici si mettono insieme, ci lavorano, tengono duro. Ecco, in quest'epica se vi capita di sentire degli interventi di chi ha attraversato questi momenti, dicono sempre l'idea è solo un punto di partenza, l'idea vale delle percentuali variabili che vanno dall'1% al 5%, il resto è esecuzione dell'idea, è la capacità con una squadra, con la determinazione, con la capacità di intuire il mercato. Lei però nel libro scrive che questi gigacapitalisti, e questo ci può aiutare un po' a profilarli, vanno oltre l'idea e lavorano spostandosi sull'ideologia, dall'idea all'ideologia. Partiamo da qui, io volevo proprio capire un po' che cos'è questo passaggio dall'idea all'ideologia e come ci può aiutare a capire chi sono i gigacapitalisti, come si distinguono. Allora, tanto grazie per l'invito, io sarei venuto anche a pulire per terra per la soddisfazione di stare in questo posto, siete molto fortunati voi bolognesi che potete venirci quando vi pare. E allora, dall'idea all'ideologia, posso dire intanto solo per aiutare la comprensione, chi sono queste gigacapitalisti, perché si tratta di un eologismo, credo abbastanza autoesplicante, ma insomma è sempre meglio non dare le cose per scontate. Giga ovviamente si riferisce alle gigantesche dimensioni delle fortune di questi signori, ma allude anche alla natura digitale delle loro fortune, perché gigabyte e gigabit sono unità di misure notorie del mondo digitale. Allora, quindi sono persone che hanno in comune una ricchezza tale che si trasforma ipsofatto in potere, potere di cambiare le regole al loro vantaggio e spesso a svantaggio di tutto il resto della collettività, e sono tutti membri anche di un altro club piuttosto esclusivo, che è il club del trilione di dollari, ovvero mille miliardi di dollari. Alcune di queste aziende, la prima che ha varcato questa soglia pazzesca è stata Apple, che poi a un certo punto ne valeva 3 di trilioni di dollari. E per avere un elemento di raffronto, cioè il PIL dell'Italia a un certo punto era 1,8 trilioni di dollari, Apple ne valeva 3, d'accordo? Un'azienda che fa dei telefoni carini, ma insomma dei computer, valeva tutta la ricchezza prodotta in Italia in un anno. Allora, io non ho nessun problema con la ricchezza altrui, anche questo lo dico subito per scombrare, a patto che questa ricchezza appunto non sia così tanta, viene da dire anche un po' oscena, che sia in grado poi appunto di cambiare le regole a loro vantaggio e a svantaggio degli altri. Allora mi chiedi perché, diciamo, dall'idea, questa è la tua citazione, che è una citazione diciamo con tanti padri, quali 1% inspiration, 99% transpiration, cioè le grandi idee vengono fuori da 1% di ispirazione e 99% di sudore, perché le idee ce le hanno tante persone, poi provo a realizzare tutta un'altra cosa. Io provo a dimostrare in questo libriccino, ovviamente non provo neanche, perché sarebbe troppo ingenuo da parte mia, a togliere un po' di genialità da questi imprenditori, perché sono tutte persone che, insomma, si sono inventati un po' dei mondi nuovi, diciamo, hanno un po' riscritto le infrastrutture materiali che usiamo per vivere, cioè basti pensare a Facebook, cioè, insomma, su cui stanno circa 3 miliardi di persone nel mondo, quindi poco meno della metà degli abitanti del mondo, conosco persone che senza Facebook, se li togliessero Facebook, diciamo, andrebbero in crisi nera, ecco, diciamo così, non io personalmente, ma tante lo farebbero e così via, cioè Amazon si candida a diventare l'unico negozio aperto del mondo, è stato più o meno così, soprattutto durante la pandemia, altra caratteristica un po' di queste aziende, imprese, è che mentre tutto il resto del mondo si impoveriva durante la pandemia, loro diventavano ancora più ricche, cioè, per intenderci, la fortuna personale di Bezos è passata durante la pandemia, mentre tutto il mondo piangeva, da 120 a 200 miliardi di dollari, sua fortuna personale, gruzzoletto sul conto in banca, per intenderci, ecco, questa è un'altra caratteristica abbastanza inquisante, ma insomma, perché dall'idea dell'ideologia, perché tutti i grandi imprenditori hanno una capacità di vedere oltre il proprio giardinetto e immaginare connessioni con il proprio business, con la propria attività principale. Queste persone hanno una capacità strepitosa di farlo, in maniera molto più articolata, diciamo, di quelli che li hanno preceduti e un esempio, credo che renda bene l'idea, diciamo, di questa specie di, è stato chiamato anche il campo unificato di Jeff Bezos, per esempio, di Elon Musk, cioè, a un certo punto, Jeff Bezos, in questa specie di enciclica che manda ogni anno agli investitori, nel 2014, dice questa cosa, credo che siamo la prima azienda ad aver messo in relazione la vincita di un Golden Globe con una maggior vendita di pannolini e articoli per i bricolage. Una formulazione a prima vista abbastanza ermetica, cosa c'entra il Golden Globe con i pannolini? Bene, lì si vede in azione l'ideologia, cioè un sistema, diciamo così, culturale che vede condizioni dove le altre persone non le vedono. Cosa intendeva dire? Una cosa semplice, che il tipico utente prime di Amazon, negli Stati Uniti, spende in media all'anno 1.400 dollari, ok? Quello non prime ne spende 600, 600 contro 1.400 dollari, più del doppio. Allora, cosa bisogna fare? Convincere tutte le persone, dare dei buoni, ottimi motivi alle persone per diventare utenti prime, perché se sei utente prime, dal momento che ce l'hai, diciamo così, lo usi e le ammortizzi, le spedizioni non ti costano niente, quindi tendi a comprare di più. Come si fa? In tanti modi diversi. Intanto, dando la possibilità alle persone di salvare le foto, un classico, soprattutto dei ragazzi giovani che hanno poca memoria, quindi poca memoria e tante foto, di salvare le foto illimitatamente su il conto prime. E poi, dando la musica, come Spotify, meno, ma insomma gratis, quindi è un altro buon motivo per diventare prime. Ovviamente la consegna gratis è velocissima, quella la davo per scontato. E poi, finalmente arriviamo a noi, ci sono tanti altri motivi, diciamo, ancillari, bonus, che danno con prime, ma uno grosso è quello di avere i video in competizione con Netflix. E qui si chiarisce finalmente la frase apparentemente esoterica di Bezos, ovvero quell'anno prime aveva prodotto una serie che si chiamava, si chiama, è disponibile ancora, Transparent, cioè la storia di un signore di una certa età che diventa vedovo e che finalmente si libera con due figlie grandi, si libera e fa coming out perché lui era un trans, diciamo, intimamente, Transparent. Allora, quella serie lì vince il Golden Globe e il senso era, se noi facciamo delle serie così belle per cui vincono anche dei premi, ancora più gente si iscriverà a Prime e io farò ancora più soldi. E questo, diciamo, loop, più volte lo fai, più persone diventeranno clienti di Amazon e così è andata. Questa, secondo me, è la maniera più, diciamo, facile per capire questa specie di ideologia. Grazie, sì, questo ci aiuta appunto a iniziare a delineare un po' il perimetro. Faccio subito una seconda domanda, anche se non era da scaletta. Per capire l'impatto, nel frattempo diamo anche il benvenuto a Francesca Bria, che si è collegata, purtroppo non è riuscita ad essere in presenza, ma ci teneva e quindi si è collegata e tra qualche minuto interloquiremo anche con lei. L'effetto di questo giga capitalismo e di questi giga capitalisti, che poi hanno un nome e un cognome nel tuo libro, tu ne scegli alcuni e decidi di non trattarne altri. Poi questo sarà anche interessante e anche su questo farò una domanda sul perché. Però appunto stiamo parlando, Jeff Bezos, quindi Amazon, Elon Musk, quindi Tesla e poi Steve Jobs, che in qualche modo ha anticipato tutto questo e poi Mark Zuckerberg con Facebook. L'effetto del giga capitalismo, del lavoro, dell'ideologia dei giga capitalisti sulla società, sulla nostra vita, sull'impatto, visto che il tema poi di questo nostro incontro è democrazia, big tech, come qual è l'equilibrio, ecco al di là degli aspetti più economici, che impatto, cioè quali sono i pericoli, i rischi o anche già gli effetti negativi, te ne sei occupato a lungo anche quando hai studiato il fenomeno Airbnb per dire, quindi che cosa succede per le nostre vite? Beh intanto i giga capitalisti sono questo schema, diciamo così, è un formidabile moltiplicatore di disuguaglianze, cioè tutte queste aziende hanno in comune un'altra cosa che riguarda il resto del mondo, diciamo in maniera più da vicino, che sono tutte aziende, non solo queste, ma senz'altro queste, che producono una quantità in mane di ricchezza con pochissimi dipendenti, cioè hanno bisogno di pochissimi esseri umani per produrre una quantità enorme di ricchezza, cioè quando Instagram, che tutti adesso sapete che cos'è, ma quando è stata acquisita da Amazon, scusate, da Facebook, non era così famosa, e l'acquisita per un miliardo di dollari, aveva 13 dipendenti, 13 dipendenti sono le prime tre file, ecco, voi eravate i primi originari fortunatissimi dipendenti, quindi 13 persone producevano un'azienda, diciamo così, lavoravano per un'azienda che era stata valutata un miliardo di dollari, che adesso ne varrà vari multipli di quella cosa lì. Allora questo è un problema per tutti, perché se basteranno sempre meno persone, diciamo così, per produrre la ricchezza, c'è da chiedersi cosa faranno tutte quelle persone che non sono più indispensabili per il lavoro, e stiamo andando in quella direzione lì. Amazon è un altro esempio lampante, avete visto sicuramente da qualche parte qualche servizio giornalistico sui robottini Kiva, che sono i veri magazzinieri, oltre a quelli verissimi reali, che fanno 20 km al giorno a passo Amazon, ma insomma il grosso delle danze viene gestito da questi robottini Kiva, che poi Amazon ha comprato, e che sono un altro modello di una ricchezza senza lavoratori. Ultima cosa che dico a questo proposito, cioè insomma ha un impatto sul lavoro pazzesco, e anche sulla capacità di imporre delle condizioni ai lavoratori diciamo così, lontane dall'essere ottimali. Ecco, apprezzerai il mio understatement. Appunto, ultima cosa, una volta la grandezza delle imprese era valutata secondo tre metriche, diciamo così, la capitalizzazione di borsa, gli asset, ovvero materiali e immateriali, fabbriche e brevetti, e la forza lavoro. Ecco, adesso l'unica cosa che conta è la capitalizzazione di borsa, cioè le valutazioni che dicevo erano di capitalizzazione di borsa, cioè una finanzializzazione estrema di queste aziende, dove l'unica cosa invece che conta per me, ovvero la forza lavoro, è una zavorra, una zavorra insopportabile. Quando un altro tipo di capitalista, ma molto famoso negli Stati Uniti, molto meno in Italia, Walmart, grandi, diciamo così, magazzini, grandi super supermercati, diciamo così, ha annunciato l'aumento del salario minimo a nove dollari, che vi garantisco, è poco, quando ha fatto questo colpo di testa di aumentare il salario per i propri dipendenti, bene, quel giorno Wall Street, la borsa, l'ha punita in maniera molto severa e ha perso otto miliardi di dollari di capitalizzazione in un giorno, perché il messaggio che il mercato ha dato è che non ti far venire queste idee folli di alzare, cioè l'idea del mondo in cui viviamo, è che devi avere meno lavoratori possibili, ovvero meno costi fissi possibili, e se anche hai idee dei lavoratori, devi pagarli il meno possibile, perché così, diciamo così, i tuoi margini sono più alti. Francesca Bria, spero che ci possa sentire, perché non abbiamo avuto il tempo di fare delle prove di collegamento. Riccardo Stagliano adesso evidenziava il tema delle disuguaglianze che il gigacapitalismo porta avanti, stava citando tutto il tema dei diritti dei lavoratori, dei diritti del lavoro, ci sono poi altre disuguaglianze, altre disfunzioni che si creano, proprio lo stesso Stagliano nel lavoro fatto a lungo con affittacamere, quindi tutta l'analisi del fenomeno Airbnb, ha raccontato come poi diavita delle distorsioni sul territorio che impattano la società e lo sviluppo sostenibile dei territori. Noi qui a Bologna conosciamo benissimo la situazione drammatica per chi viene da fuori, studenti, ma anche giovani coppie che cercano abitazione e non la trovano più, quindi sono poi degli impatti concreti, proprio perché quel mercato lì delle stanze in affitto è andato ad appannaggio di piattaforme che hanno un approccio estrattivo, estraggono valore, guadagnano legittimamente da questi processi ma non redistribuiscono valore, non lo rimettono sul territorio, sulle comunità, per cui essere a Bologna, San Francisco, Barcellona in qualche modo è la stessa cosa per questo tipo di piattaforme, manca un dialogo. Allora lei, Francesca Gabriella, che è presidente del Fondo Nazionale Innovazione e che però ha avuto anche poi un'esperienza proprio a Barcellona visto che la citavamo. Noi volevamo sapere le traiettorie del Fondo per immaginare un'innovazione che abbia un impatto sostenibile, che garantisca uno sviluppo sostenibile con una redistribuzione dei valori che si generano per la società, per le comunità dei veri territori. Quali sono le azioni, qual è sia il mindset, la filosofia che c'è dietro al lavoro del Fondo e poi le azioni concrete che voi attuate? Buonasera a tutti, spero che mi sentiate bene. Grazie mille. Sì, mi dispiace di non essere lì con voi in persona, è sempre diverso chiaramente partecipare ad un dibattito essendo lì con voi. Io provo a contribuire diciamo al discorso in parte sottolineando l'importanza del lavoro di Riccardo Stagliano e del suo libro anche in chiave soprattutto di sensibilizzare l'importanza strategica di questi temi e il loro valore fortemente politico, quindi il bisogno diciamo di politicizzare il tema della tecnologia, dell'evoluzione del digitale e dell'impatto che ha sull'economia, sulla società e soprattutto su pensare il futuro dell'Europa e dell'Italia in questo momento. A mio avviso rimane sempre diciamo molto da interrogare questi temi, metto una fortissima importanza dal punto di vista della politica industriale dell'Europa e dell'Italia oggi hanno un impatto molto forte sulle politiche fiscali, insomma ricordava Stagliano sulla ridistribuzione del valore ma anche sul fatto che questi giganti, queste big tech molto spesso diciamo eludono il fisco laddove si crea il valore e laddove sono l'utente. Un impatto molto forte sulle politiche della concorrenza e il ripensare l'antitrust oggi nonché sui diritti fondamentali e sulla questione appunto di che tipo di società stiamo immaginando. Infatti durante la pandemia magari diciamo tutti quelli che sono lì presenti si sono avvicinati in maniera più forte al digitale per un bisogno che abbiamo avvenuto una repentina digitalizzazione delle nostre vite la si diventa sempre più digitale, il lavoro a distanza, l'educazione a distanza, quindi lo smart work, l'educazione a distanza, sempre di più ci interfacciamo con una miriade di piattaforme digitali che diventano le infrastrutture critiche su cui i servizi essenziali della società quindi la sanità, l'educazione, la mobilità, come si organizzano le città si riorganizzano. Quindi la valenza politica mi sembra chiara e invece se ne parla sempre molto poco in una dimensione politica durante le ultime elezioni effettivamente si è parlato poco di quali sono gli indirizzi, di quali sono le politiche che si devono mettere in campo da una parte per governare democraticamente le infrastrutture digitali e quindi anche queste grosse aziende che le gestiscono e dall'altra per fare in modo che l'Europa e quindi anche l'Italia diventino strategicamente sempre più autonome. Se diciamo appunto si parla di nuova politica industriale, della crisi energetica e dell'info e questo si lega alle catene di approvvigionamento e ad esempio la crisi dei microchip durante la pandemia e che si protrae oggi ha in qualche modo avuto un impatto molto forte su tantissime filiere industriali importanti dall'automotiva, al manifatturiero, al farmaceutico. Quindi abbiamo questi di una nuova, io ci ho girato diciamo molto intorno e non ho affrontato il fondo ancora perché credo che era necessario fare un discorso un po' più d'insieme per dire che credo che siamo in una fase soprattutto con il Next Generation EU, la nuova strategia digitale dell'Europa che invece mette al centro il piano per i microchip, 400 miliardi di investimento per digitalizzare l'Europa, per dotarsi di capacità nelle infrastrutture critiche del futuro, quindi il supercomputing, la gestione dei dati, l'intelligenza artificiale, i microprocessori appunto e il bisogno io credo, questo si va detto molto chiaramente, di proiettare l'Europa non solo come leader regolatorio, il grande regolatore dell'era digitale, quindi ricordate gli spettatori che nella nuova agenda digitale europea c'è soprattutto un quadro regolatorio che io definirei una nuova costituzione per l'era digitale, laddove appunto con tutto questo potere bisognerebbe anche avere i nuovi diritti digitali, diritti dei lavoratori, diritti dei cittadini e il fatto che vada tutelata la democrazia liberale, quindi una piena democrazia nell'era digitale. In questo l'Europa ha fatto dei grossi passi avanti con il Data Protection Regulation ma anche il Digital Service Act, il Digital Market Act, l'Olici di Tutto, l'Artificial Intelligence Act, tutta una serie di regolazioni che io credo ci pongono all'avanguardia nel mondo, quindi probabilmente dovremo essere i leader di questa nuova capacità ecco regolatoria, ma io credo che l'Europa e quindi anche l'Italia siano invece molto indietro nel riuscire a competere anche da un punto di vista strategico, scientifico e tecnologico, quindi dotarsi delle proprie imprese che possano fare innovazione deep tech oggi, quindi anche poi dei propri sistemi, della propria tecnologia che possa integrarsi alle regole di cui ci dotiamo. Io questo credo che possa essere solo in questo modo raggiunto una piena democrazia. Detto questo, quindi il Fondo Innovazione con 5 miliardi di euro di investimenti per appunto le startup innovative del futuro, ma soprattutto per diciamo rafforzare l'ecosistema digitale e di innovazione in generale in Italia, proprio nei settori strategici del futuro, quindi dall'aerospazio alla robotica, all'intelligenza artificiale, alle scienze della vita, all'agritech, cioè tutti quei settori che saranno sempre più importanti per la creazione di valore e di quindi un lavoro anche migliore nel futuro, sicuramente il Fondo Innovazione fa la sua parte in un contesto europeo dove l'Europa, come dicevo prima, sta investendo molto di più su questi temi per fare in modo ecco di proiettarci anche noi e poi forse c'è tempo di discutere questo. Io ho sempre affermato nel mio lavoro che l'Europa deve trovare una terza via fra il big tech che è il modello un po' che Riccardo descrive nel suo libro di capitalismo della sorveglianza di Silicon Valley e il big state che è il modello cinese diciamo di capitalismo digitale autoritario e proporre una terza via che io ho chiamato big democracy, una piena messa al servizio delle capacità tecnologiche del presente, al servizio dell'ambiente, dei diritti delle persone e di una piena tutela e rafforzamento della democrazia liberale oggi. Grazie Francesca Bria, spero possa rimanere connessa con noi in modo da poter continuare a interloquire anche più tardi. Professor De Martini, lei insegna al Politecnico di Torino ma è anche co-curatore insieme a Luca De Biasa della Biennale di Tecnologia, tema di questa edizione che sta per arrivare, principi, costruire per le generazioni. Ecco anche rispetto a quello che ci dicevano Francesca Bria, Riccardo Stagliano, la Biennale di Tecnologia e anche il suo lavoro indaga molto la relazione tra le tecnologie e la società. In che modo, partendo dalla descrizione, dal profilo dei gigacapitalisti e dall'impatto che hanno sulla società oltre che sull'economia, dal suo osservatorio valuta il fenomeno dei gigacapitalisti, in che modo si può misurare un impatto e in qualche modo controllare, monitorare, governare questo impatto. Sì, grazie molto e grazie anche del riferimento a Biennale di Tecnologia che verrà inaugurata il 10 novembre, per cui ormai tra poco da Nassim Taleb, il noto studioso del cigno nero, della antifragilità, eccetera. E poi l'11, il 12, il 13 novembre avremo circa 140 incontri in cui esploreremo questi temi digitali, ma anche temi che hanno a che fare con l'energia, con la mobilità, con insomma un ampio spettro, chiamando non soltanto colleghi ingegneri, ma anche umanisti, scienziati sociali, artisti a riflettere su questi temi. E da questo punto di vista ho accettato con molto piacere l'invito a partecipare a questo incontro, perché il libro di Riccardo Stagliano è proprio un tentativo molto riuscito di andare oltre il dato puramente tecnico. Si parla di innovazione, sì, certo, però si va ben oltre, si cerca di avere un quadro più complessivo per capire questo fenomeno e non lasciarlo soltanto al dato puramente, come dire, dell'innovazione avuta da Zuckerberg o da Jobs o da qualcun altro. Da questo punto di vista le riflessioni che mi facevano venire in mente le pagine di Stagliano sono una domanda in particolare che è molto ricorrente quando si ha a che fare col digitale, io me ne occupo da molto con questo approccio da almeno 20 anni e comunque sono un ingegnere informatico, cioè cosa c'è di veramente nuovo e cosa c'è invece di usuale, come dire, caratteristico del nostro sistema politico-sociale. E effettivamente, e si capisce anche dalle pagine di Stagliano, ci sono alcune cose oggettivamente nuove relative a questo fenomeno che lui descrive e che ha catturato con questa espressione convincente come gigacapitalisti. Ci sono anche però delle cose che non sono nuove e il suo libro ne è dato perché ogni tanto parla del passato e fa dei collegamenti col passato. Cosa c'è di nuovo che se noi guardiamo la famosa lista delle società più quotate in borsa, con più ampia capitalizzazione di borsa, che ricordiamoci è uno dei parametri con cui si valuta un'azienda, non l'unico, anche se tende ad essere adesso ossessivamente enfatizzato questo singolo parametro, però se guardiamo le 20 più importanti aziende quotate in borsa a livello mondiale di questi mesi, di questi anni, vediamo appunto una fortissima preponderanza di grandi aziende tecnologiche americane, alcune cinesi, qua e là qualcos'altro ma molto poco, in particolare Sud Corea e poi petrolio, e una sola azienda europea, una sola, che è il conglomerato del Louis Vuitton, quindi conglomerato del lusso, che ci dice qualcosa anche su dove sta l'Europa, però la cosa interessante è che se noi guardiamo quella classifica e la paragoniamo non a 50 anni fa, ma appena 15 anni fa, 2005, notiamo due cose eclatanti, una che gli ordini di grandezza sono cambiati, è cambiato l'ordine di grandezza, nel senso che se le grandi aziende, la più grande azienda quotate in borsa nel 2005, quindi pre-crisi del 2007-2008, era intorno ai 300 miliardi, adesso come diceva Riccardo Stagliano, siamo passati a parlare di qualcosa che è dieci volte più grande, quindi è tutto stato moltiplicato per dieci, che già è un dato, vuol dire che le borse sono cresciute, lo sappiamo perché, perché le banche centrali hanno inondato di liquidità e quindi hanno favorito questa crescita, quindi vuol dire che però anche le risorse economiche a disposizione di queste aziende sono cresciute con tutto un impatto politico molto importante, poi la seconda cosa è che nel 2005, adesso non voglio citare nomi a memoria perché riesco di essere impreciso, però le prime aziende per quotazioni di borsa nel 2005 erano ancora molto novecentesche, c'era già Microsoft, quindi se volete il gigante della prima corsa al loro digitale, quella legata al personal computer, ma c'erano General Electric, Johnson & Johnson, Walmart, quindi aziende pienamente novecentesche, quelle aziende non ci sono più, sono mai retrocesse, non perché non continuino a fare cose molto utili, importanti, essere rilevanti eccetera, però sono uscite dalla serie A, dalla Champions League di queste gigantesche aziende, quindi è cambiato potremmo dire il volto del capitalismo, quantomeno quello occidentale che incorpora almeno per il momento anche due o tre attori cinesi, particolarmente Tencent e Alibaba, questo è chiaramente una discontinuità, quindi è cambiato un panorama del capitalismo internazionale, dopodiché una non discontinuità ma una continuità è il fatto che tutti i teorici, qua siamo a un festival dedicato alla democrazia, tutti i teorici alla democrazia, a partire dai pensatori dell'antichità hanno sempre detto che la democrazia è incompatibile con la grande ricchezza, è semplicemente incompatibile, non ci può essere una grande disparità di mezzi, perché la grande disparità di mezzi, senza arrivare alle vertigini strapitose di gigacapitalisti ma anche molto più modeste, semplicemente distorcono lo scenario politico, lo distorcono perché il potere economico inevitabilmente si trasforma in potere politico, capacità di influenzare, anche senza comprarsi i giornali come succede da una parte e dall'altra dell'Atlantico, quindi anche senza entrare proprio pesantemente nella sfera pubblica, comunque le grandi ricchezze sono in linea di principi incompatibili con la democrazia, allora noi viviamo però con un sistema che coniuga capitalismo con un regime formale liberale dove le grandi ricchezze hanno sempre posto un problema e vediamo che nel corso della storia di questi ultimi, limitiamoci a questi ultimi 150 anni abbiamo visto il pendolo, il pendolo che cerca a volte di porsi il problema in maniera più seria e prendere delle conseguenze e adesso siamo dalla parte opposta invece sostanzialmente accettare, perché quello che descrive Riccardo Stagliano nel libro è che c'è una cosa senza precedenti, ricchezze senza precedenti, c'è qualche economista spiritoso che prova a fare paragoni tra Jeff Bezos e Remida, prova a stimare ma la ricchezza di Remida quant'era e scoprire che i ricchi attuali sono ancora più ricchi di Remida, ebbene siamo adesso nella fase in cui siamo meno problematici anche se contributi come quello di Stagliano e di tanti altri cercano invece di problematizzare il problema. Quindi questa è una continuità, la continuità del problema della ricchezza privata che distorce uno scenario che amiamo definire democratico. Quindi da questo punto di vista le ricette, le soluzioni in parte dovremmo inventarcene di nuove, ma in parte le abbiamo già sperimentate e Riccardo Stagliano lo ricorda. In America quando queste grandi ricchezze accumulate dalle primi grandi monopoli delle ferrovie, dell'acciaio, del petrolio, nacquero negli ultimi decenni dell'Ottocento, la reazione durante quel periodo storico che in America chiamano l'età progressista, che arriva poi con alti e bassi fino al New Deal di Roosevelt, fu di dire che la grande concentrazione, i monopoli, erano un problema non solo economico, anzi addirittura secondariamente economico, ma un problema democratico. E quindi la prima legge antitrust al mondo, che è lo Sherman Act americano, del 1886 vado a memoria, lo Sherman Act americano diceva certo, introduciamo, il problema è anche economico, non vogliamo che estraggano le rendite i monopolisti, ma è un problema di concentrazione di potere, è un problema prettamente politico. Allora questo negli ultimi 50 anni ce lo siamo dimenticati, si è dimenticato? Dimenticato. Complesso processo intellettual politico che ha portato la Corte Suprema americana a smettere di interpretare l'antitrust come era stato interpretato nel molti decenni prima, interpretarlo puramente dal punto di vista del benessere del consumatore e questo poi chiaramente ha influenzato come sempre anche l'Europa e gli altri paesi nella sfera nordamericana. Dobbiamo riscoprirlo e in America effettivamente con speranze forse immotivate che avevamo posto nella presidenza Biden si cerca di riscoprire questa tradizione che è loro, devono soltanto riscoprirla però poi cominciare oggettivamente a operare. Le speranze un paio di anni fa erano alte, adesso sono molto meno e il clima di nuova guerra fredda sicuramente non aiuta perché queste grandi aziende potranno dire volete mica indebolirci noi che siamo i campioni contro i nemici che adesso dobbiamo affronteggiare e quindi effettivamente e concludo molto importante identificare le discontinuità cosa c'è di effettivamente nuovo ma allo stesso modo con uguale lucidità identificare che cosa sono problemi ricorrenti del nostro sistema politico ed economico. Grazie il professore. Riccardo, allora il professore e anche Francesca Bria quando parlava prima di una costituzione, di un set di regole, di una democrazia sul digitale, adesso il professore con l'excursus anche su quello che succede e è successo negli Stati Uniti, ne parli anche te poi nel libro sui passaggi legati anche a Biden, ma quindi come si tutela la democrazia dalle distorsioni del gigacopitalismo, come si tutela la società, i cittadini, gli utenti, quali sono le traiettorie, regole, esiste una via più europea che fa anche conto di quello che è il nostro passato in tema di tutela dei diritti, oppure la proposta deve essere pensata più a livello globale, anche perché appunto l'Asia è fortemente coinvolta in questo processo, adesso tu non ne parli direttamente ma se pensiamo all'e-commerce di Alibaba oppure altre realtà siamo comunque sull'identikit tracciato dei gigacapitalisti di cui parli. Ho fatto l'errore di prendere un pezzo di carta quindi scrivo sul telefono, ma volevo dire alcune cose sulla tua domanda che però intersegono le cose molto interessanti che ha detto Juan Carlos, tutte sul tema dell'impatto sulla democrazia, sono cambiate le cose e anche sul tema novità e continuità. Bene, allora una volta Facebook, cioè una volta i vecchi media, diciamo quelli tipo il mio, il vendito pubblico oggi festeggia 35 anni di vita, auguri il venerdì, fantastico giornale, vi invito a leggerlo perché è veramente una bella rivista, ecco i vecchi media come quello che scrivo io o anche il tv erano un specchio per la società, cioè le persone si incontravano alla fermata dell'autobus, c'erano tre canali e tutti avevano visto il festival di Sanremo della sera prima o la partita della domenica e si rispecchiavano diciamo nei vecchi media, giornali e tv. I nuovi media sono diciamo così, quello specchio è andato in frantumi, in mille frantumi e adesso i social network sono, come dire, che comprendono tutti questi migli frantumi danno un'idea molto spesso, un'immagine, restituiscono un'immagine molto spesso deformata di ciascuna tribù. Questa cosa ha delle conseguenze potenzialmente esiziali per la democrazia, cioè il motivo per cui i social network, di cui si parla molto, è uno dei miei gigacapitalisti, è il padrone del più grosso, in senso che è Facebook con poi le altre cose, Instagram e compagnia. Io non credo che sia un'esagerazione dire che c'era un psicologo sociale che si chiama Jonathan Haidt, che ha scritto qualche mese fa sull'Atlantic un articolo magnifico su questa cosa, la cui raffigurazione, lui usa l'immagine della Torre di Babele. Voi sapete tutti che cos'è la Torre di Babele, sapete che a un certo punto per punire la iubris di questi babilonesi che avevano costruito questa torre troppo in alto, diciamo così, Dio li punisce o, ci sono due versioni, diciamo, o distruggendo la torre o, sulla versione su cui tutti concordano, mischiando le lingue. Allora gli abitanti della Torre di Babele non si capiscono più l'uno con l'altro. Ecco questa è la migliore metafora dal mio punto di vista, purtroppo non è mia, ma cito l'autore, dei social network adesso. Cioè, social network sono un posto dove tante persone simili parlano tutte lingue diverse, cioè proprio non si capiscono, uno dice la Meloni è fantastica, l'altro dice la Meloni andrebbe uccisa. Cioè questo è il livello, non c'è molto nel mezzo, diciamo così. Allora questo dal mio punto di vista è già un effetto devastante sulla democrazia, perché la democrazia dovrebbe funzionare in maniera, come dire, dovrebbe valorizzare la scala di crisi. E i social network non fanno questo, per un motivo molto semplice, costitutivo. Cioè, a un certo punto gli scienziati sociali a busta paga di Facebook hanno scoperto una cosa, ovvero che i contenuti che esprimono, che fanno venire fuori emozioni negative, l'odio per primo e a scendere il disprezzo, il disgusto, sono cinque volte più virali di quelle che esprimono, suscitano sentimenti positivi. Allora, se voi foste, fatevi questa domanda, se voi foste l'amministratore delegato di Facebook, un tipino diciamo di suo anche abbastanza poco empatico, diciamo così, abbastanza robotico, se ne ha dato più prove parlando nelle audizioni del congresso americano, cioè sembrava di avere a che fare con un robot, diciamo, molto performante, ma... Allora, se voi foste il padrone e dice questo prodotto vende cinque volte di più e quest'altro vende una volta e costano uguale, cioè niente perché il lavoro lo mettiamo noi, quelli che frequentano quella piazza lì, su quale prodotto puntereste? Una cosa allo stesso prezzo, una cosa vi dà per cinque e una cosa vi dà uno. Allora, non credeteci, non credeteci mai quando Facebook dice, ah, noi stiamo lavorando per togliere i contenuti d'odio, non è vero e non è una, diciamo così, maliziosa interpretazione mia, ma è la rivelazione di Francis Hogan, una forse la più celebre pentita di Facebook, che davanti al congresso americano ha detto, quando Zuckerberg e France dicevano stiamo togliendo il 95% dei contenuti d'odio, le stavano togliendo il 5%, era una colossale ammoina per fare finta di fare la cosa giusta. Allora, secondo me questo esempio è già sufficiente per dire quanto danno, ora, non tutti i miei eroi si fa per dire lavorano e sono arricchiti nel settore delle piattaforme sociali, ovviamente, però uno senz'altro e un altro vorrebbe farlo, e sto parlando ovviamente di Elon Musk con questa saga, diciamo così, tragicomica dell'acquisto di Twitter, lo voleva comprare, poi non lo voleva comprare più, adesso lo rivuole comprare, ma non è tanto questo che dovrebbe preoccuparci tutti, è l'idea che il potenziale nuovo padrone di Twitter è uno come Elon Musk, che è un geniale imprenditore, ma è uno che qualche anno fa è stato bandito da Twitter, dalla SEC, cioè dalla Consob americana, perché con delle sparate totalmente fuori controllo era stato in grado di cambiare, di manipolare il prezzo della sua azienda, facendo delle affermazioni che non poteva fare sulla sua azienda, cambiando in maniera radicale il prezzo. Cioè, è come, per essere più chiari, come quei avventori particolarmente sui giri di alcuni bar, tipo i Roxy Bar, diciamo così, che a un certo punto il barman li allontana dal locale, perché ogni volta che entrano fanno del casino e fanno una rissa, ok? Allora, il padrone dice, senti, so che te mi compri del whisky, ma mi fai così tanti danni che non devi più far vedere. Bene, Elon Musk è quello che, allontanato dal locale, poi torna nel bar e dice, mi compro tutto il bar. E' andata esattamente così, cioè il tasso, diciamo così, di affidabilità democratica di Musk è di quel tipo lì, cioè è uno che fa anche grandi cose, anche molto generose e poi dopo le fa all'opposto, cioè è affidabile come, va bene, non voglio fare paragoni, insomma è scarsamente affidabile da quel punto di vista lì. L'ultima cosa che dico, a questo proposito, che però è un tema centrale per dire i potenziali danni per la democrazia, cioè io ci tengo a chiarire che nel piatto del mio libro ho scritto appunto questa cosa qua, i gigarapetristi non sono buoni né per il mercato né per la democrazia, questa seconda cosa che fa molto rima col tema del bel festival di Pandora non è una esagerazione, cioè parlare di tenuta della democrazia se i gigarapetristi hanno carta bianca nel fare quello che vogliono, come hanno avuto sin qui, perché sin qui gli stati non stiamo parlando di una calamità naturale, stiamo parlando di un'ascesa che è stata in molti casi, non c'è tempo adesso per parlare adesso, ma insomma largamente aiutata dagli stati, in ragione del fatto che appunto sono dei campioni tecnologici e bisognava diciamo farli sgambare in autonomia, diciamo così, senza disturbarli, ma allora invece ogni potere, questa è la teoria liberale che anche il professor De Martin citava, classica, non è la rivoluzione francese, ovvero a tanto potere deve corrispondere a un contrappeso altrettanto grosso. Ecco, e invece su questo chiudo, quando il buon Elon Musk ha risposto a un appello via Twitter del ministro ucraino che chiedeva aiuto sui satelliti perché altrimenti l'Ucraina rischiava di rimanere al buio sia di internet ma soprattutto dell'intelligence che gli alliati li avrebbero fatto avere, Elon Musk ha risposto e ha detto te li mando io, i satelliti Starlink che è una delle sue varie aziende, ok? E l'ha fatto, cioè era un privato, incidentalmente il privato più ricco del mondo, che ha deciso, come fanno gli amministratori delegati, senza sentire nessuno, di fare questa cosa, ok? Cioè, e c'è andato bene, nessuno si è lamentato perché ha dato questo aiuto agli aggrediti. Ma allora immaginatevi, io fino a poche settimane fa facevo l'esempio, immaginatevi che in futuro ci sarà una guerra con la Cina, la Cina è un mercato molto importante per la Tesla e se Musk la prossima volta l'aiuto lo dà alla Cina magari ci sta meno bene. Bene, non c'è più bisogno neanche di fare questo esempio ipotetico perché la realtà si è incaricata di darmi un argomento meno ipotetico, cioè qualche giorno fa, forse l'avete visto, forse no, Elon Musk ha fatto una proposta di pace in quattro punti su Twitter, del conflitto russo-ucraino, che ha fatto imbufalire gli ucraini, il giorno prima lui era un eroe nazionale perché quello che gli ha garantito la connessione sin qui. Allora, io non entro neanche nel merito di quella proposta, è il metodo che è, non dico neanche sbagliato, è folle, cioè un signore, un privato, con nessuna competenza geopolitica, con nessun titolo a fare né a mandare i satelliti prima, cioè un'infrastruttura strategica, né adesso a fare una proposta diciamo di mediazione, che però è un signore che ha due caratteristiche inedite, uno è il più ricco del mondo e due ha 107 milioni di follower su Twitter, 107 milioni, noi italiani siamo 60, scarsi, sempre di meno perché ci rattrappiamo, lui ha 107 milioni di follower, cioè lui ha più di una nazione che lo segue, diciamo, e allora infatti hanno risposto in maniera maggioritaria per il no, ma tutti dicono, comunque su Twitter le hanno detto di no, che la sua proposta, cioè tutti, no, il 60% gli ha detto no, non ci piace la sua proposta, ma il 40% gli ha detto di sì, ma ripeto, non è il merito estero interessante, è la follia diciamo di questa vicenda, che però fa molto gioco, diciamo così, un gioco postumo alla piccola intuizione di gigacapitalisti, è che ci sia un privato che in autonomia, senza passare dal congresso americano, ma neanche dal governo americano, decide di muoversi come se fosse una nazione, ecco, per me questo è più che sufficiente per preoccuparsi degli esiti sulle democrazie dei gigacapitalisti. Grazie. Grazie Riccardo Stagliano. Francesca Bria, spero ci senta, partendo da quest'ultimo intervento di Stagliano, quindi sugli equilibri fragili tra la democrazia e quelli che sono i nuovi modelli che l'innovazione ha introdotto, perché questo esempio di disintermediazione dove un amministratore delegato, un proprietario, anzi un cofondatore proprietario dell'azienda decide di intervenire su equilibri geopolitici in modalità totalmente autonoma, da quelle che sono poi gli organismi di rappresentanza democraticamente eletti, è chiaramente un segno di questa grandissima preoccupazione. Io le volevo chiedere, Bria, il rapporto, l'equilibrio tra il vasto ecosistema dell'innovazione che lei conosce molto bene e la democrazia, cioè c'è un modo per poter fare sì che l'innovazione porti sviluppo, benessere, inclusione e allo stesso tempo non cada in questa distorsione, l'ultimo esempio fatto da Riccardo Stagliano, cioè come si regola l'equilibrio tra l'ecosistema dell'innovazione, perché non esiste un'unica innovazione, lei la conosce benissimo, sono ecosistemi diversi che si intersecano, che si incrociano, che però hanno un rapporto diretto poi con tutta la democrazia, con gli organismi che devono tutelare, che devono garantire il percorso, i percorsi democratici che regolano poi le vite dei paesi in cui viviamo. Qual è questo confine, come si costruisce questo equilibrio secondo lei? Ah sì, secondo me è importante di nuovo ribadire che chiaramente il potere di mercato e il potere diciamo economico e industriale, perché bisogna ricordarsi che non è solo un potere economico, ma è anche un potere industriale nel momento in cui le big tech sono effettivamente coloro che detengono il controllo delle infrastrutture critiche, su cui si basa l'innovazione del futuro, nel caso di cui stiamo parlando non ha precedenti nell'era industriale delle rivoluzioni industriali passate e quindi dà anche vita ad un potere sociale e un potere poi sul sistema democratico che probabilmente non ha precedenti e su cui diciamo gli stati devono essere in grado di dare delle risposte appunto per in qualche modo far sì che il potenziale rivoluzionario di queste tecnologie, dei dati, dell'intelligenza artificiale, del supercomputing e di tutto quello che genererà la nuova ondata di rivoluzione direi tecnologica possa essere messa al servizio di un modello economico, sociale, democratico, ok? Questa è la grande questione. Io credo che nel caso che citava Riccardo si sta ancora parlando un po' di quella che è stata la prima ondata di innovazione delle piattaforme digitali, effettivamente quella dei social network in cui, diciamo, questo ormai lo sappiamo tutti, è stato detto chiaramente ed è anche per questo che l'Europa si è data così tanto da fare per creare tutta una serie di regolazioni che, ripeto, sono veramente da valutare in maniera molto positiva, sono una nuova costituzione di questi temi, sono la costituzione del digitale e il problema centrale qual è? Che le fake news, le teorie della cospirazione, la disinformazione, l'abuso di un certo tipo di informazioni personali è l'esternalità negativa del modello di business di queste piattaforme digitali che usano i dati e le informazioni personali, la loro manipolazione e la loro monetizzazione come, diciamo, cuore, ok, del modello di business. Tutto ciò va contro, ad esempio, quelle che sono le basi della regolazione europea in materia, ad esempio della protezione dei dati personali, della GDPR, no, del regolamento sulla protezione dei dati personali e di tutto l'impianto giuridico che c'è alla base della, diciamo, protezione dei diritti fondamentali dei cittadini nell'era digitale. Quindi, in qualche modo, diciamo, si è creato un conflitto molto forte perché ha portato poi a quello che abbiamo visto, a Cambridge Analytica, alla manipolazione dei dati dei cittadini durante le elezioni, insomma, la sostituzione quasi del locus democratico dai parlamenti e qui che hanno la legittimità, no, per, diciamo, governare la sfera politica, la sfera pubblica, alle server farm e alle boardroom dei giganti tecnologici. Questo chiaramente è un problema che un po' ha toccato al cuore, che tocca al cuore, io credo, il modello di democrazia europeo e quindi, diciamo, ci si è dotati di tutta una serie di regole che devono essere applicate e che effettivamente metterebbero in crisi questo modello economico che, ripeto, usa l'estrazione, la manipolazione e la monetizzazione dei dati per creare profitto, poi attraverso, chiaramente, i sistemi di intelligenza artificiale, la pubblicità targettizzata, insomma, tutto quello che è anche stato un po' descritto dal libro di Shoshana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Ora, diciamo, il mio discorso è di natura, a mio avviso, bisogna capire che questa è stata la prima ondata di innovazione, diciamo, basata su internet e sulle tecnologie digitali, ma che oggi siamo ben oltre quello. Io è per questo che prima ne facevo una questione fortemente di politica industriale, perché mentre finora abbiamo visto si è rivoluzionata la musica, i giornali, i social media, adesso si sta parlando di scienze della vita, educazione, sanità, tutti i settori industriali si trasformeranno nella seconda ondata, diciamo, di accelerazione di questo processo di innovazione. E quindi, ecco, secondo me, a mio avviso è molto chiaro, mentre, ad esempio, la Cina, ecco, in questi due modelli che io descrivevo all'inizio, delle big tech americane e il modello cinese, diciamo, la Cina si è dotata di tutti dei suoi campioni nazionali, delle sue tecnologie e anche del sistema di regole, appunto, che è diverso. Ora, secondo me, appunto, sicuramente l'autoritarismo un po' digitale cinese o il modello per cui, no, diciamo, la concentrazione di potere magari nelle mani di un partito solo e comunque il modello anche di diritti che è molto diverso dal nostro, che ci viene dalla Cina, non può essere un modello per l'Europa. Però è vero che chiaramente l'Europa, anche proprio per capire, insomma, che nel futuro vogliamo sviluppare una sanità nostra, sviluppare forme di mobilità propria, di servizi del futuro, che l'Europa si deve dotare chiaramente della sua capacità scientifica e tecnologica per creare una tecnologia propria che risponda e che sia integrata a quelle che sono le regole che ci diamo noi. Insomma, questo è un po' il senso della sovranità tecnologica, ovvero che, diciamo, deve essere la rivoluzione tecnologica, deve avere una direzione, non solo una velocità, e che questa direzione, appunto, a nostro avviso, deve essere il modello democratico europeo, la sostenibilità sia sociale che ambientale. Quindi dare una direzione significa governare democraticamente e politicamente questo processo. Io credo, comunque, diciamo, per dare una nota un pochino più positiva, perché ho sentito anche l'intervento di Juan Carlos essere anche molto giustamente, in qualche modo, allertandoci rispetto agli errori fatti nel passato e una anche incapacità del sistema di dare delle risposte. Io credo che, comunque, l'Europa, per la prima volta, dopo tanti anni, come sistema, diciamo, di regolazione, sta effettivamente centrando i problemi più importanti. Ci sono gli investimenti, perché dicevo prima che anche per la prima volta dopo tanto tempo c'è un piano industriale europeo con degli investimenti molto forti che vanno in quella direzione. Ecco, adesso è veramente il momento di implementarlo, cioè di renderlo realtà. E io, per chiudere il mio intervento, direi che vedo alcune delle alternative più interessanti non venire dagli Stati nazionali, ma ad esempio arrivare dalle città. Tu hai citato il caso di Bologna prima, ad esempio, nell'alternativa rispetto, ecco, all'economia dei rider e di come fare in modo che ci siano diritti per i lavoratori delle piattaforme. Anche lì c'è una nuova legge europea sul lavoro digitale delle piattaforme che è molto avanzata, che insomma certifica che i rider sono dei dipendenti, che hanno tutti i diritti, quindi sorpassa questo, diciamo, meccanismo della precarietà. Si inizia a normare l'intelligenza artificiale e l'algoritmo utilizzato per la gestione del lavoro, ma anche proprio l'algoritmo che in qualche modo dà le regole per regolare alcuni di questi processi, quindi il governo democratico, diciamo, degli algoritmi della tecnologia e alcune città si sono dotate di infrastrutture e di una normativa, ad esempio, sulla gestione dei dati, come la città di Barcellona, che ha molto democratizzato questo processo. Io vedo delle risposte che arrivano più dal basso, dai territori, se vuoi, dove questi problemi sono molto più a contatto con i cittadini, quindi la questione dei dati, dell'intelligenza artificiale, dell'identità digitale, sono questioni più concrete, in cui si si rende conto di come trasformano la vita dei cittadini, i servizi dei cittadini e quindi proprio il funzionamento della democrazia oggi. In qualche modo bisognerebbe far sì che queste alternative che vengano dal basso possano e diventino una vera piattaforma europea che poi possa generare un cambio dal punto di vista dell'Europa. Mi rendo conto che è difficile essere positivi in una fase così di crisi forte, in un momento in cui l'Europa si trova in difficoltà a rispondere ai grossi problemi come la crisi energetica, la guerra e il futuro stesso del continente, ma io credo che è solo lì acquistando più autonomia strategica e il coraggio, diciamo, di mettere in campo delle alternative concrete che rispondano ai bisogni dei cittadini e pongano proprio al cuore la questione della partecipazione democratica delle persone all'orientamento del futuro della società digitale. Grazie Francesca Abria. Professore, Francesca Abria introduceva il ruolo dei cittadini, quindi da un lato un set di regole, di governance a livello nazionale, europeo, dall'altro i bisogni dei cittadini, la capacità dei cittadini di far sentire la propria voce, che poi è uno degli elementi fondanti delle democrazie. e questo come si coniuga anche con il ruolo sempre più preponderante, ad esempio, dei dati. Lei se ne occupa da tempi non sospetti, prima che diventasse mainstream. Ora è un tema, quello dei dati, della governance dei dati fondamentale, dove la tecnologia e il rapporto con i territori, è molto interessante il ragionamento sulle città, noi qui abbiamo il tecnopolo, che si dedicherà a tutto il tema dei big data, e c'è anche una serie di discussioni su come farlo interagire col territorio, con la città, per far sì che, faccio il caso di Bologna, ma si potrebbe parlare di Torino, si può parlare di Barcellona, di tante altre realtà, dove non devono essere calate solo dall'altro, queste sovrastrutture che portano all'innovazione, ma devono essere in grado di rispondere a dei bisogni reali, concreti, questo poi è un modo anche di esercitare la democrazia. Lei come Colomelo interpreta? Allora, direi due cose principali. La prima è che, se pensiamo non soltanto alla tecnologia digitale, ma in generale alla tecnologia, quale tecnologia viene pensata, e dopo essere stata pensata, progettata, sviluppata e diffusa? Allora, nel nostro sistema, sono solo due casi, tranne rarissime eccezioni. Viene sviluppata, diffusa, eccetera, perché può produrre profitto, oppure perché c'è un interesse tipicamente legato alla sicurezza, alla sicurezza nazionale, alla sicurezza, alla difesa e così via. E spesso le due cose sono collegate tra loro, ovviamente. Ci sono tantissime tecnologie, potenzialmente utili per i singoli e socialmente, utili per l'ambiente, utili per esigenze, che non vengono sviluppate. Non vengono sviluppate perché, una volta, in tempi precedenti a questi ultimi 40 anni, qualcuno chiama i 40 anni pietosi, contrapponendoli ai 30 gloriosi, nei 40 anni pietosi, il ruolo dello Stato, che era quello che diceva, c'è una certa cosa socialmente utile, non la fa il mercato, perché ha fatto le sue valutazioni, e ritiene che non sia utile, ma è socialmente utile, e dunque la faccio io. Questo lo Stato non lo fa più. E quindi, dobbiamo prenderne atto, ci sono delle, vogliamo parlare delle app, dello smartphone, ci sono delle app potenzialmente molto utili, che a volte qualcuno, nel suo tempo libero, qualche volenteroso, prende, sviluppa, poi si sposa a figli, l'app cade in disuso, nessuno la fa seguire, e quindi queste iniziative meritevoli, spesso muoiono dopo poco tempo. Allora, questo è un dato di fatto strutturale, del nostro mondo, e quindi, collegandomi a quello che diceva Francesca Bria, il ruolo dello Stato, che da qualche anno, si parla di un rinnovato ruolo dello Stato, è molto parlare, è ancora poco concreto, per queste cose che stiamo discutendo noi, salvare le imprese, con i loro debiti, eccetera, sì, fare queste cose, molto meno. Quindi, il motivo è questo, perché c'è un'esigenza concreta, avremmo bisogno di molte cose, che non vengono sviluppate, e l'unico attore oggettivo, che può intervenire, è tutti noi, la Repubblica, lo Stato. Questa, è la prima osservazione. invece, la seconda osservazione legata al singolo, allora, il singolo, in questo momento, secondo le stime, ci sono 6,6 miliardi di persone al mondo, che hanno uno smartphone, che è un numero strabiliante, perché 6,6 miliardi, vuol dire circa l'83% della popolazione mondiale. Questo oggetto, è un oggetto utilissimo, divertentissimo, ce l'abbiamo tutti in mano, lo tocchiamo centinaia di volte al giorno, e così via, è un oggetto straordinariamente opaco, perché la stragrande, io sono un ingegnere informatico, per cui, insomma, se vedo, quando qualcuno lo prende, lo smonta, fa vedere cosa c'è dentro, ho gli elementi per capire, però, la stragrande maggioranza delle persone, lo prende, lo compra, perché non solo è utile, ma sta diventando necessario, ma soprattutto, poi lo usa, è molto intuitivo, ma che cosa faccio a questo oggetto, e arrivando alla sua domanda, che dati raccoglie, dove vanno questi dati, eccetera, è totalmente opaco, non possiamo sperare che i cittadini, le persone, possano fare qualcosa, non hanno proprio gli elementi, non lo sanno, non sappiamo, perché non lo so neanch'io, per molte cose, non sappiamo perché ci mostra quello che ci mostra, perché quando andiamo su social media, ci fa vedere certe cose, possiamo dire, ce le fa vedere, perché l'algoritmo di Facebook, che ci fa vedere le cose, che secondo loro, susciteranno maggiormente la nostra reazione, col fine di venderci della pubblicità, ok, però poi concretamente, insomma, la gente apre, guarda, non può mettersi a fare chissà quali ragionamenti, e non parliamo di delle cose più fisiche, questo telefono ha a bordo molti sensori, che raccolgono per esempio la luce ambientale, abbiamo alzato, abbassato le luci, il telefono se ne è accorto, voi direte, chi se ne importa che se ne è accorto, e invece è un'informazione potenzialmente sensibile, con questa informazione di luce ambientale, si può stimare quanto è grossa la mia casa, a che piano è, e come è orientata, ed è un'informazione che, abbinandola con una semplicissima collocazione, posso dire quanto vale la mia casa, ok, dal semplice sensore di luminosità ambientale, quindi, e concludo, se volessimo un'effettiva partecipazione dei cittadini a questi temi, il primo dato fondamentale è intervenire dall'alto, per obbligare quantomeno a una grandissimamente superiore trasparenza, adesso questo oggetto è troppo opaco, e ci vorrebbe veramente molto poco per renderlo meno opaco, dalla trasparenza poi cominceremo a avere qualche elemento in più, per dire ma allora cosa vogliamo fare, e qui entriamo però nel gioco strettamente della democrazia, e quindi i partiti, le forze politiche, i sindacati, le associazioni, che si muovono su questo tema come su tanti altri. Grazie professore, allora noi siamo in chiusura, perché noi dobbiamo anche liberare la sala per il panel successivo. Riccardo, lascio a te un'ultima brevissima riflessione sulla base di quello che ci ha detto adesso il professore, che diceva prima Francesca Bria, e vengo anche un po' nel tuo campo giornalistico, l'idea del watchdog, di chi deve osservare, controllare, raccontare, e mi collego al tema della trasparenza che introduceva adesso il professore. Allora per tornare anche al tema portante di questo incontro e di tutto il festival, quindi in che modo anche i media o nuove forme di rappresentanza, oltre che i media, possono sorvegliare, garantire, guardare, e in qualche modo controllare, monitorare, che la democrazia non venga violata dal gigacapitalismo. Faccio un esempio che risponda a questa domanda. Prego. Allora ci sono due modi di raccontare una notizia di qualche settimana fa. La notizia era Amazon compra Roomba. Sapete cos'è Roomba? Quei robottini aspiratori, aspirapolvere. Ok? Un modo per raccontare questa notizia, questa è la notizia in sé, diciamo così. Un modo per raccontare questa notizia, è che è magnifico, fantastico, costreranno meno, si troveranno in tutte le case, non c'è più bisogno di passare la ramazza o i vecchi aspiratori, diciamo così, a mano. E c'è anche un altro modo, diciamo, ancora più estremo e purtroppo ci sono varie prove di questo modo per dire che è magnifico, non dovremo mai più fare, le donne saranno liberate dalla loro incombenza, a quelli che ancora pensano che le donne puliscano, diciamo, siano le uniche, diciamo, depolitarie delle pulizie di casa e così via, poi lì dibattiti su chi fa questo in casa. Comunque, il sottotesto è magnifico, grande liberazione sarà e questa è una maniera. E poi c'è un'altra maniera di raccontare che, come mai Amazon proprio ha speso così tanti soldi, non mi ricordo più quanti, miliardi per comprare sto robottino, per il motivo che diceva il professor De Martin qualche secondo fa, perché ancora di più del sensore per la luce e i nuovi i nuovi Rumba e non solo Rumba anche gli altri, i proscenic e altri, ce ne sono tantissime marche adesso, hanno un GPS incorporato e mappano le case. Quindi vedono cosa c'è nelle case, diciamo, di fatto, senza altro vedono le dimensioni delle case e sanno anche la posizione perché c'è un GPS quello che ci porta con Google Maps. Allora è, diciamo così, una scommessa abbastanza facile di esumere che se c'hai una casa di 250 metri nel centro storico di Roma tu sei uno piuttosto interessante dal punto di vista del potere d'acquisto. Se c'hai 30 metri quadrati a Tor Pignattara sei un altro tipo di cliente. Faccio, diciamo, due esempi nella città dove vivo ma ognuno può fare, può, diciamo così, localizzarli nella propria città. Allora cosa sto cercando di dire? Ci sono articoli diciamo che stressano questo rischio ovvero ci stiamo mettendo una spia in casa perché questo è, diciamo, un nuovo sensore molto potente che ha i suoi vantaggi ovviamente però bisogna che qualcuno lo faccia notare poi io nel libro faccio una serie di molto imbarazzanti coming out di contraddizioni mie come utente come consumatore le facevo già nel libro precedente di su Airbnb perché mia mamma per tre mesi all'anno affitta un pezzettino della sua casa però ha questa straordinaria caratteristica che paga le tasse fino all'ultimo e questa è abbastanza una rarità ma insomma quindi questo come dire rientra nell'uso fair use diciamo di Airbnb allora ci sono due modi questa è la mia risposta c'è un modo molto diffuso di dire è fantastico leggete i pezzi sui prodotti leggete i pezzi sui nuovi iPhone cioè ormai una cosa come l'esudo il controesudo vi ricordate era un grande topos giornalistico ogni anno agosto c'erano questi pezzi pallosissimi sull'esudo sempre la stessa cosa cioè morto in più morto in meno ma insomma tranne che per le famiglie per cui era una tragedia ma dal punto di vista giornalistico era la peggiore cosa che ti poteva capitare bene adesso c'è un nuovo topos giornalistico che è il pezzo sulla presentazione del nuovo a settembre il nuovo come dire puntuale come la morte arriva un nuovo iPhone un nuovo iPad e molti di questi pezzi iniziano così è l'iPhone più bello di sempre più potente di sempre che è una banalità perché è chiaro è più più nuovo di quello dell'anno scorso e quindi è tutto un magnificare tutto un superlativo ci sono quei pezzi che sinceramente competerebbero di più all'ufficio stampa di Apple che tra l'altro è un ufficio stampa piuttosto efficace diciamo quindi non ci sarebbe bisogno dei volenterosi carnefici diciamo così dei giornalisti che fanno addirittura l'ora e poi ci sono quegli altri che fanno che fanno l'altro lavoro e dicono attenzione perché sì è una nuova spia ancora più ecco spero di aver dato l'idea di come si può fare assolutamente sì bene io credo che siamo arrivati veramente in conclusione anche perché ci fanno segno che dobbiamo anche liberare per il prossimo panel io ringrazio Francesca Bria il professor Juan Carlos Martín ricordo la Biennale di Tecnologia Riccardo Stagliano Giga Capitalisti lo trovate anche qui all'entrata grazie a tutti per essere intervenuti buona serata grazie mille anche a te grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille